Le ragioni del no alla riforma costituzionale e perché votare no al referendum sono i temi al centro del convegno dibattito che ci sarà oggi pomeriggio alle 16.30 nella Sala della Costituzione della provincia di Campobasso organizzato dal Movimento Coscienza Civica. Ragioni innanzitutto di metodo e poi di merito. Quelle di merito ce le illustrerà il professor Pace che è un noto costituzionalista presidente del Comitato del No a livello nazionale. Posso per ora limitarmi a quelle di metodo perché è una riforma in realtà licenziata da una maggioranza parlamentare abbastanza discutibile frutto di una legge elettorale dichiarata incostituzionale con dei premi di maggioranza quindi molte volte alterati e quindi una maggioranza probabilmente che non avrebbe un titolo pieno a mettere mano su un testo costituzionale che non è peraltro di una singola parte politica ma è un testo di tutti. Ci saranno dunque diversi interventi. Lei accennava a quello del professor Pace. Sì, è una riforma che in realtà andrebbe poi letta con un po' di attenzione. Questa iniziativa cosa si... diciamo... il fine dell'iniziativa qual è? Quello di sensibilizzare un pochettino tutta quanta la comunità su un richiamo ad un momento abbastanza emergenziale perché non è una singola votazione che poi tra qualche anno verrà rifatta così come può essere in qualche modo equivocata. Si tratta di mettere mano a un testo con un percorso molte volte irreversibile. Quindi è una riforma costituzionale che non riguarda una parte politica ma riguarda tutti. La fase è assai delicata e il testo è abbastanza incomprensibile. Quindi alle ragioni poi di metodo che si tratta di una riforma licenziata da una parte politica con una maggioranza assai discutibile, se aggiungono ragioni di merito, si tratta in fondo della libertà e dei principi fondamentali che riguardano un po' tutti. Quindi rimettere mano ad un assetto costituzionale in questo modo lo ritengo assai discutibile a prescindere poi dal merito per quanto riguarda già soltanto la forma che in realtà viene ad assumere questo nuovo disegno costituzionale. Una riforma costituzionale è un referendum che ha portato a tanti dibattiti nella società civile e nella politica? Sì, purtroppo lo sconfinamento che si state verificando su questa questione della riforma costituzionale è che si tende sempre più ad un clima più da tifoserie e di parte. In realtà il testo costituzionale, ripeto, è di tutti. Un approccio un po' più riflessivo e un po' più pensato e meditato, meno da slogan e opportuno. Qui l'iniziativa di coscienza civica di questo nuovo movimento che cerca in modo divulgativo di approfondire un tema assai caldo. L'appuntamento è dunque oggi pomeriggio alle 16.30 nella Sala della Costituzione della provincia di Campobasso. Sì, è proprio un luogo simbolo quello della Sala della Costituzione della provincia di Campobasso per cercare di approfondire il tema sulla Costituzione.